Borse di studio al liceo De Bottis per gli studenti meritevoli. Consegnategli ieri pomeriggio le borse di studio per i liceali che si sono maggiormente distinti nello scorso anno scolastico. La premiazione è stata organizzata dall'Associazione Ex Alunni del liceo De Bottis e realizzata grazie al contributo della Banca di Credito Popolare. I vincitori sono stati 28 maturati con 100 e 100 e lode e ragazzi delle prime e delle quarte individuati per media e meriti scolastici. Cerimonia tipica nel rispetto delle norme anticontaggio e delle ultime ordinanze regionali, in un De Bottis blindato e chiuso agli alunni. I presenti in Aula Magna erano la dirigente scolastica Letizia Spagnolo, il presidente della Banca di Credito Popolare Mauro Ascione, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, il presidente del consiglio studentesco l'avvocato Felice Bellona e la professoressa Carolina Laverde, presidente dell'Associazione Ex Alunni. Alunni, vincitori e genitori hanno seguito la premiazione in videoconferenza. Cosa significa in questo periodo premiare il merito degli alunni? Quest'anno la premiazione degli alunni maturati ha una particolare importanza rispetto agli altri anni perché i ragazzi che si sono maturati nel 2020 sono ragazzi che hanno attraversato un periodo molto ma molto particolare anche da un punto di vista emotivo oltre che organizzativo. Ragazzi che hanno dovuto rinunciare alla loro festa del maturando ma che comunque sono riusciti a portare dei risultati. Quindi nonostante il covid, nonostante la didattica a distanza, nonostante l'attenzione emotivo che ci ha coinvolto questa epidemia i ragazzi sono riusciti a portare dei brillanti risultati. Qual è l'impegno dell'Associazione Ex Alunni in un momento del genere? L'Associazione Ex Alunni ha da statuto il compito e il ruolo bellissimo di premiare gli allievi che si impegnano nell'attività di studio ma noi come giustamente ha sottolineato la dirigente abbiamo pensato in questo nostro ritorno come associazione dopo circa 25 anni, siamo ritornati ad essere da circa 4 anni, abbiamo voluto estendere questa nostra iniziativa anche ai maturati perché noi premiamo i ragazzi per la loro assiduità, per il loro impegno. Questo piccolo dono in danaro è soltanto il presupposto per mettere in evidenza che in qualche modo li ringraziamo. Quanto loro realizzano? Lo fanno certamente per se stessi, però sono un bellissimo esempio per la città, sono un bellissimo esempio per i loro compagni, rappresentano una cassa di risonanza che ritiene l'Associazione debba essere attivata costantemente per dimostrare che lo studio, l'impegno, l'assiduità pagano. Come si è proceduto per arrivare a questa prima azione in un periodo così difficile? Ma innanzitutto con molta abnegazione che peraltro è un tratto che contraddistingue sia l'operato di tutto il liceo classico e linguistico De Bottis sia quello dell'Associazione Ex-Alunni, cercando di concentrarsi anche su queste cose che per noi vestono sempre un motivo di grande soddisfazione perché andare a ricercare il merito tra gli alunni frequentanti liceo è sempre soddisfazione per loro ma soprattutto anche per noi che cerchiamo appunto nella lode e nel merito dei ragazzi anche il senso della nostra missione come associazione Ex-Alunni e per me personalmente che rivesto anche la carica di Presidente del Consiglio d'Istituto come ulteriore attestato di stima nei confronti di questa scuola. Si dà forza a questi ragazzi, si dà un riconoscimento e in un momento così difficile, un momento che stiamo vivendo io sto qui al liceo e vedere questa scuola senza studenti, senza quel movimento di gioia, di ragazzi l'anno scorso eravamo in piena attività con questa manifestazione, con la dirigente, con la Presidente degli ex-alunni del liceo De Bottis, il Presidente della Banca del Popolare, siamo soli e questo rattrista tantissimo è un momento di gioia per questi ragazzi che vengono premiati, è un momento che vogliamo dare un messaggio si vuole dare un messaggio, stiamo combattendo e nello stesso momento non si perdono quelle che sono le tradizioni e questo è importantissimo e ringrazio la scuola, il dirigente per questi momenti che fanno sì che tutto deve andare avanti tutto deve continuare, non ci dobbiamo mai fermare. Come è importante investire sul merito, soprattutto per quanto riguarda i giovani? Ci sono dei giovani che meritano e quindi devono essere in qualche modo premiati, è un'attenzione che la banca devo dire con orgoglio sta avendo negli ultimi anni, soprattutto nei confronti dei giovani studenti, giovani del territorio, questa iniziativa che noi voglio dire supportiamo con grande piacere perché ormai è una tradizione che ci portiamo avanti di sostenere l'associazione degli ex-alunni del liceo del Bottis, lo facciamo proprio con lo spirito di essere vicino ai giovani, di incoraggiarli e di dare loro una prospettiva futura perché anche qui c'è una banca del territorio che li vuole sostenere.